Oll sfrutta le sue lunghissime leve e va a segnare Moreno Molinaro è un buon tiratore da tre, se ne ricorda il sacco Per Moreno, da tre punti e il canestro Torna in attacco Moreno, appoggia il cristallo e segna Panni da lontanissimo e la tripla Ribaltamento di Moreno per Venuto che questa volta sbaglia Gran rimbalzo di Oll che tramutta la sua prodezza offensiva Balla di Oll, Perfantoni è ancora lui Ancora Oll contro Amoroso, decida da via sinistra e appoggia il cristallo Oll vuole l'uno contro uno con Valerio Amoroso Letteralmente il volo di Molinaro che schiaccia a canestro Autore dei sottotitoli e pelle di QTSS Grazie.